Un viaggio a tappe nel centro storico di Monte Corvino Rovella con Franco Arminio per riscoprirne le bellezze nascoste. Lo scrittore sarà a Monte Corvino il prossimo 20 dicembre nell'ambito dell'iniziativa I Borghi di Natale a partire dalle ore 17 per accompagnare i presenti in una passeggiata nei luoghi più belli del centro storico. Ogni tappa sarà l'occasione per raccontare in versi e in prosa le bellezze e le fessure che danno emozioni presenti in tanti angoli dei nostri paesi. Dopo la passeggiata appuntamento all'auditorium Don Gerardo Senatore per un dibattito sulla paesologia con il regista Andrea D'Ambrosio ed alcuni storici del posto. A seguire intorno alle ore 19 sempre all'interno dell'auditorium Don Gerardo Senatore la proiezione del docufilm di mestiere Faccio il paesologo diretto dal registra Andrea D'Ambrosio e vincitore del premio Rossellini.